In questi giorni, nella mia visita a Washington, durante l'incontro con il segretario di Stato Tony Blinken, abbiamo discusso di vari temi, tra cui l'Afghanistan, e conveniamo sul fatto che serva un passo diverso in Afghanistan, un cambio di passo in Afghanistan. Oggi qui a Bruxelles si è appena conclusa una riunione con il ministro degli esteri tedesco, turco, inglese, il segretario di Stato americano, e come Italia abbiamo ovviamente condiviso la linea del cambio di passo in Afghanistan. Ci saranno altre riunioni nelle prossime ore, ma vi posso dire che si va verso una decisione epocale per la Nato, una decisione che ovviamente prenderemo insieme ai nostri alleati e che riguarderà la presenza delle truppe in Afghanistan dell'alleanza Nato. In tutto questo vorrei dire un grande grazie a tutti i soldati italiani che sono impegnati nelle missioni di pace nel mondo, le ringrazio e siamo orgogliosi di loro, e voglio dire anche che non abbandoneremo mai il popolo afghano, che continueremo ad aiutare anche di più con progetti di cooperazione allo sviluppo, con il sostegno alle imprese, il sostegno alla società civile, la tutela dei diritti umani.